Il senatore Antonio Razzi ha presentato una interrogazione al ministro dello sviluppo economico e dal ministro per l'ambiente al fine di porre questioni di importanza cruciale per la tutela dell'area marina protetta a Torre del Cerrano. La fondata preoccupazione del senatore forzista si basa su notizie circa una prossima attività estrattiva da parte della società Enel Longanesi Development a largo della costa compresa tra Pescara e da Alba Adriatica. Una tale attività risulterebbe purtroppo in fausta e penalizzerebbe gli sforzi profusi dal Ministero dell'Ambiente, dalla regione Abruzzo e dai comuni di Pineto e di Silvi per garantire lo sviluppo turistico dell'intera regione. Considerando che la costa abruzzese è già stata negli anni passati invasa da varie piattaforme per le trivellazioni che hanno ampiamente deturpato il paesaggio naturale, il senatore Razzi interroga i ministri chiedendo di intervenire e porre freno al progetto.